Ci sarà un processo per l'incidente ferroviario di un treno merci che urtò un carrello della manutenzione avvenuto a dicembre del 2018 nella Galleria del Pellegrino a Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Statuto, in cui rimasero feriti due macchinisti e tre operai. Uno degli addetti perse l'uso delle gambe. Il GUP ha rinviato a giudizio nove persone, tra funzionari di RFI e responsabili tecnici dell'azienda pisana che aveva incaricato i propri dipendenti della manutenzione della linea elettrica. Le accuse, a vario titolo, sono lesioni gravi e gravissime, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. La notte del 7 dicembre del 2018 il treno merci si scontrò con un cestello sopraelevato su cui si trovavano tre operai impiegati nel tunnel in lavori di manutenzione della linea elettrica. I tre furono sbalzati sulle pareti della galleria e finirono sulla massicciata. Secondo l'accusa, il carrello sopraelevato era rotante e sporgeva sull'altro binario. I dirigenti di RFI non avrebbero disposto l'adozione di dispositivi per rendere percepibile il limite dell'area interessata dalla cantiere. interrotto la circolazione dei treni sul binario adiacente a quello su cui si svolgevano i lavori in orario notturno e in un tratto curvilineo.